ok anche oggi il viaggio sta andando abbastanza bene ho fatto 62 chilometri sono sopra a Follonica c'è una collina su di qui, guardate che paesaggio sono altri cittisti qua che passano forse non rende tanto quel telefonino ma è bellino bello dai proseguo che la storia è ancora lunga ciao ragazzi